Ciao e bentornato su Impara Da Vinci Resolve. Oggi daremo sicurezza al nostro lavoro andando a settare i backup automatici direttamente a livello di progetto. Prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Quindi backup automatici su Resolve. Parliamo della questione dei salvataggi. Ecco da questo punto di vista Resolve ti dà una grossa mano. Lo shortcut più importante in assoluto è Control nel caso di Window oppure Command nel caso di Mac più S. Questa combinazione di tasti ti permette di salvare il tuo progetto. Lo shortcut in questo caso è molto utile perché deve essere proprio un'operazione automatica, ti deve venire immediatamente e deve essere fatta in maniera rapidissima. Se non ti ricordi lo shortcut lo puoi recuperare benissimo da File, Salva progetto e di fianco ti troverai lo shortcut. Se noi abbiamo fatto ad esempio delle modifiche, ad esempio abbiamo preso una clip, l'abbiamo messa in traccia 2, poi abbiamo preso un'altra clip, l'abbiamo messa in Overwrite sopra un'altra clip. Ok. Poi mi sono accorto di aver sbagliato e voglio ritornare al salvataggio precedente e vado su File, Revert to Last Saved Version. In questo caso viene ricaricata l'ultima versione salvata, quindi senza la traccia 2. Ti chiede chiaramente conferma, carichiamo il progetto ed ecco che siamo tornati alla versione precedente. Quindi tutto molto facile. Altra cosa molto interessante, nell'interfaccia di Resolve trovate in alto il nome del progetto. Se io ad esempio faccio un'altra modifica rispetto al salvataggio, aggiungo quindi una clip in traccia 2, troverò la scritta Edited in grigio vicino al nome del progetto. Se io ora aspetto 15 minuti senza fare il salvataggio, la scritta Edited diventa gialla, quindi è un piccolo messaggio di avvertimento. Guarda che sono 15 minuti che non hai fatto il salvataggio. Se aspetto 30 minuti la scritta diventa rossa. Quando è rossa il messaggio di avvertimento è ancora un po' più grave, ti dice guarda che sei a rischio, quindi sono 30 minuti che non salvi il tuo progetto. Quindi c'è un'indicazione anche cromatica dell'interfaccia di Resolve per invogliarti a fare il tuo salvataggio manuale. Esiste anche la possibilità di sfruttare i backup automatici del progetto. In DaVinci Resolve 16 ci sono due modalità di backup automatici e li troviamo all'interno delle preferenze. Quindi apriamo le preferenze, quindi dall'applicazione in alto a sinistra DaVinci Resolve andiamo in preferenze e andiamo nelle preferenze utente. All'interno delle preferenze utente c'è la scheda Project Save and Load. All'interno di questa scheda troviamo la sezione Save Settings. Qui ci sono i settaggi dei backup automatici. Come potete vedere è tutto disattivato, quindi per adesso io mi sto affidando unicamente ai backup manuali del progetto. Ci sono due tipologie di backup automatici. Il primo si chiama Live Save. Se io lo abilito, quindi metto il check sull'opzione relativa, succederà che Resolve continuamente, tra virgolette, salverà il progetto. Quindi se io sto lavorando lui continuerà a salvare il progetto. Quindi in teoria e sulla carta non mi dovrei occupare dei backup manuali. Facciamo una prova. Adesso disattiviamo Live Save. Facciamo Cancel. Quindi sono ancora in backup manuale. Ho fatto la mia modifica. C'è Edited e se vado sopra la scritta Edit viene fuori da quanto non ho salvato. Not Saved for 3 Minutes. Vuol dire che è da 3 minuti che non sto salvando. Ora vado sul Project Manager e provo a creare un nuovo progetto. Viene fuori questa scritta. Guarda che il progetto 1 non è stato salvato. Lo vuoi salvare? Quindi vuol dire che tutti i salvataggi sono delegati ai salvataggi manuali che faccio io. Torno un attimo indietro, chiudo il Project Manager, vado nelle preferenze e vado ad abilitare il Live Save. Faccio Save. Adesso il Live Save è funzionante e nonostante ci sia scritta Edit sopra, ora da 4 minuti che non salvo, se vado in Project Manager e provo a creare un nuovo progetto, ecco che lui me lo fa creare perché il salvataggio è già stato fatto in automatico dal Live Save. Quindi la domanda può essere il Live Save è da tenere attivo oppure no? Allora ci sono i pro e contro. Il grosso pro è che siete tranquilli che il lavoro non lo perdete. Non perdete neanche un minuto del lavoro perché comunque avete sempre il salvataggio continuo del vostro progetto. Il contro possono essere due. Siccome la macchina lavora mentre fa i salvataggi automatici potrebbe essere che notiate una piccola lag, un piccolo ritardo durante il vostro lavoro. Il secondo contro è che se state facendo dei test sul vostro progetto, mettiamo state testando la color, non vi volete portare dietro nel salvataggio anche le prove, quindi magari lì è più utile lasciare un salvataggio manuale e ritornare all'ultimo salvataggio quando le prove sono finite. Quindi a seconda della tipologia del lavoro che state effettuando può essere utile tenere il Live Save attivato oppure disattivare il Live Save. Niente di più facile perché entrate nelle preferenze e mettete e togliete il check. In automatico viene aggiornata la tipologia di backup automatico. La seconda modalità di backup che è indipendente dalla prima quindi possono convivere benissimo assieme. Si tratta dei veri e propri backup di progetto e qui se li attivo posso decidere i soliti due parametri che riguardano i backup ossia ogni quanto salvare e quante versioni del progetto salvare. Solo che in questo caso il tutto viene letto in modalità leggermente differente. Proviamo a capirci qualcosa. Quindi attivando i project backup vengono attivate tutte e tre le opzioni che trovate qui sotto. La prima riguarda i backup nell'ultima ora di lavoro. Nell'ultima ora ogni quanto io mi faccio un backup indipendente dal Live Save di default è impostato a dieci minuti vuol dire che in un'ora lui immagazzina sei backup. Quando scatta l'ora viene fatto automaticamente un backup orario e si ricomincia il giro dei sei backup cancellando il primo backup effettuato secondo la logica del first in first out cioè il primo entrare il primo anche uscire. Avrò sempre sei backup legati all'ultima ora più un tot di backup orari. Quanti? Lo decido dal di qua. Se io decido di avere backup delle ultime due ore a livello orario fisso due. Quando scatta la terza ora il backup nuovo va a sostituire il primo. Se io ad esempio lavorassi otto ore al giorno al mio progetto posso mettere otto ore. In questo caso sono sicuro di avere backup orari per ogni ora di lavoro durante il giorno. Quando scatta il giorno successivo viene fatto un backup giornaliero. Quanti backup giornalieri voglio tenermi dietro? Lo decido da questo parametro. Quindi se io lavoro cinque giorni a settimana su questo progetto e voglio tenermi tutti i backup giornalieri della settimana vado a mettere cinque. Quindi mi tengo cinque giorni di backup giornalieri. E' chiaro che quanti più progetti io tengo in magazzino con quanto più spazio ho bisogno all'interno della mia cartella che ospita i backup. E qui veniamo all'ultima opzione di questo settaggio. Dove vengono messi questi backup? Vengono messi all'interno di una cartella della macchina. Ma qual è questa cartella? Di default è lo scratch disk ossia il disco nel quale andremo a mettere la cache e le gallery still. Questo disco può essere impostato manualmente nella sezione media storage, nelle preferenze di sistema. Come abbiamo visto ieri mentre parlavamo dell'allocazione dei file di cache. Ti invito a tal proposito a guardare il tutorial relativo. Però possiamo utilizzare qualsiasi altra destinazione. Ecco in questo caso può essere utile utilizzare ad esempio un disco esterno oppure addirittura un servizio in cloud per avere tutti i backup scorrelati dalla macchina fisica. Quindi una volta che ho impostato questo lavoro faccio save. E se io voglio ripristinare un backup come procedo? Rientriamo come al solito nel project manager. Dal project manager seleziono il mio progetto, faccio tasto destro e vado nella sezione project backup. Apro il mio project backup e se ho dei backup archiviati, qui vedrò il nome del mio backup. A questo punto io posso cancellare singolarmente i backup, posso cancellarli tutti oppure caricarne uno. Ad esempio carico questo, faccio load. Lui ti chiede di dargli un nome a questo progetto, quindi lo chiamiamo ad esempio progetto 5. Facciamo ok e viene creato un nuovo progetto all'interno del project manager basato sul backup del progetto 3. Se hai delle domande in merito ai backup automatici ti invito a farle direttamente qui nella sezione commenti e noi ci vediamo domani per un altro tutorial.